Doppio arresto dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Ad essere pizzicati sono stati due stranieri di 35 e 50 anni, entrambi residenti ad Agropoli. Il più giovane, nella serata del 10 gennaio, approfittando dell'assenza dei proprietari, ha sfondato la porta d'ingresso di un esercizio di ristorazione di oliastro marina, rubando alcuni oggetti, fra cui un fucile calibro 16. Le indagini avviate dai militari della stazione di Castellabate hanno permesso di accertare gravi indizi di colpevolezza a carico del 35enne, grazie all'attività informativa e alla visione dei filmati dai sistemi di videosorveglianza dell'attività commerciale. Nel medesimo contesto, i carabinieri hanno effettuato un'ulteriore perquisizione domiciliare presso l'abitazione del secondo straniero, che ha permesso di rinvenire ben due fucili illegalmente detenuti, uno dei quali risultato poi essere proprio l'arma sottratta al ristoratore di oliastro marina.